E' di due feriti gravi il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio all'uscita di Romano Nord Cimagrappa della Val Sugana. Un terribile scontro frontale tra un Audi Station Wagon condotta da un quarantenne di Romano e un furgone al cui volante si trovava un cinquantenne Emiliano, poco prima delle 16 lungo via Molinetto. Ancora da capire l'esatta dinamica al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi e entrambi i veicoli sono andati praticamente distrutti. Sul posto anche i vigili del fuoco di Bassano in quanto dall'urto è stato spanto sull'asfalto diverso olio motore. Immediato l'arrivo di due ambulanze dal San Bassiano che hanno trasportato i due conducenti al nosocomio di Via dei Lotti dove sono tuttora ricoverati. I medici stanno valutando le loro serie condizioni.